Un telegiornale particolare, vedo il conduttore, la conduttrice, mi pare di conoscerla. A lei la linea. Ciao Enrico, ti sto presidiando lo studio, sai come funziona qua? È un attimo che uno si sposta dal luogo di lavoro e arrivederci e grazie. Urbano Cairo al tuo posto voleva mettere Rolando Bianchi, il centro amati del Torino. Quindi stai tranquillo, tu mi cambi studio, resto qua io per te. Allora, è bellissimo rivederti, è un po' che non ci vedevamo, siamo un po' come quei familiari che si incontrano soltanto ai funerali, ma non parliamo subito del PDL, aspettiamo qualche istante. Allora, c'è molta tesa per i dati, non si possono ancora rendere noti i sondaggi, però sai che anche Berlusconi è andato a votare e ha voluto smentire una volta per tutte che all'estero gli ridono dietro per come parla l'inglese. Gli ridono dietro anche qui in Italia. Prego. Ecco, lasciami salutare i tuoi ospiti, è veramente una bella cricca di bei maschi, quante donne come al solito, sempre troppo assenti, ma so che arriveranno, vero Enrico? Arriveranno, adesso speriamo nelle femmine fra l'altro, quelle stesse del seggio. E chi non spera nelle femmine, un po' in linea di massima. Quindi saluto Marcello Sorgi che è lì dalle regionali del 74, ricordo Visse Spadolini forse, saluto anche Gad che sta giocando a Razzo, credo, Bersani smacchierà il giaguaro e anche la sua cravattina. Sì, arriveranno delle donne. Nel frattempo, guarda, ti volevo dire, sai che ci sono state queste polemiche sulla matita copiativa del, insomma, riguardo al consiglio dato dal Movimento 5 Stelle ai suoi sostenitori. E segnalo qualche problema che ha avuto in qualche seggio qua a Milano, una mia amica ha seguito il consiglio, cioè, insomma, ha aumentato la matita copiativa che era questa e è andata via con questa in mano. Non so cosa sia potuto succedere. A tra poco, Enrico. A tra poco, a urne chiuse. Non hai salutato Aldo Cazzullo, fallo subito che si è offeso giustamente. Perché hai salutato... Ciao Aldino, ciao Aldino che sei bella compagnia. Sei tranquillo, ci vediamo dopo.